segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te oggi c'erano almeno quattro buone ragioni per celebrare la festa della repubblica guardando con gratitudine a quel 2 giugno del 1946 in cui tutto cominciò la prima ragione è che quel giorno gli italiani dovendo scegliere tra monarchia e repubblica scelsero la seconda non era mai accaduto prima che un regime monarchico scomparisse con il re ancora al potere la seconda ragione è che il tutto accadde pacificamente quasi naturalmente senza vendette o ritorsioni postume tanto che i primi due presidenti della repubblica di nicola e di ninaudi furono eletti a quell'incarico pur avendo votato per la monarchia scelta condivisa anche da personalità come benedetto croce e gadda scalfaro e andreotti la terza ragione per cui è giusto celebrare il 2 giugno del 1946 è che quel giorno si elesse anche l'assemblea costituente che ci avrebbe poi consegnato la legge fondamentale dello stato che ancora oggi regola i nostri diritti e doveri di cittadini la quarta ragione per festeggiare il 2 giugno è che in occasione di quel doppio appuntamento elettorale per la prima volta dopo un test alle comunali di marzo votarono anche le donne che di nuovo per la prima volta esercitarono anche il diritto all'elettorato passivo 21 furono elette in parlamento e parteciparono ai lavori dell'assemblea costituente la più giovane teresa mattei aveva 25 anni a loro e ai milioni di donne a corse ai seggi fu consigliato di non mettere il rossetto e questo per evitare che nel chiudere con la saliva la scheda lasciassero traccia di trucco rendendo così nullo il voto